Amici amici player salve a tutti e ben ritrovati oggi vengo qui ad offrirvi un bonus di ben 25 euro con questo coupon per un videogioco molto molto interessante world of warships ora l'unica cosa che sinceramente non mi sconfinferà tanto è vedere questa immagine di un calciatore su quella che non è una nave da crociera con tanto di bandiera alle spalle e visto le ultime notizie insomma sapete si fanno anche degli strani collegamenti comunque cerchiamo di non pensarci troppo prove il nuovo comandante gioca gratis andiamo a vedere il nostro bonus code e ce l'abbiamo proprio qui da utilizzarsi entro il 31 12 2024 riuscite a leggerlo spero di sì e con il codice bonus avrete una nave di livello 4 a vostra scelta 7 giorni di account premium per partire avvantaggiati 2 milioni di crediti per migliorare le navi e addirittura 200 dobloni per personalizzare la nave fantastico beh ragazzi che possiamo fare fa caldo e giochiamocela in questo modo d'accordo con questo è tutto io come sempre vi invito a iscrivervi al canale buttarci un like così periodicamente andrò pubblicando anche questo tipo di cosine che magari a tanti possono interessare ciao e alla prossima